Ricordiamo la programmazione di Qui Calcio Cicova. Andiamo in onda tutti i mercoledì alle ore 23 su TRG, canale 11 del Digitale Terrestre. Due le repliche previste, entrambe al giovedì, alle ore 13.30 su TRG1 e quindi canale 111 e alle ore 18.20 su TRG e quindi canale 11. Inoltre, dal giovedì mattina ci trovate anche online su video.settecalcio.it per dare visibilità ai tornei regionali A1 e A2 di Juniores allievi giovanissimi, per quanto riguarda la Juniores anche nazionale. Una trasmissione itinerante che andrà dunque a far tappa ai tanti settori giovanili presenti nella nostra regione. Questa tappa è in casa della Iulia Spello e tra poco andremo a parlare con i protagonisti della società. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenza ai ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Eccoci di nuovo in onda, come dicevamo siamo a Spello, proprio all'interno dello stadio comunale 16 giugno e abbiamo già i nostri primi due ospiti della circostanza e vi li vado ovviamente a presentare. Alla mia destra c'è il presidente della Iulia Spello, Emanuele Manni. Buonasera Emanuele. Buonasera, buonasera a voi. Alla mia sinistra invece il Mirko Falcinelli che della Iulia Spello è il direttore generale. Buonasera. Buonasera. Benissimo, allora prima di andare a parlare un attimino con i nostri due ospiti andiamoci a vedere tutti i risultati della Juniores da nazionali A1 e A2 e poi ne parleremo anche un po' con loro. Andiamo a dare i risultati delle Juniores cominciando dai nazionali. Girone F, settima giornata. Foligno-Montegiorgio 4 a 0, Iesina-Cannara 2 a 1, San Marino-Matelica 4 a 3, San Giustese-Recanatese 2 a 2, Tolentino-Santerpidio 1 a 3, Trestina-Bastia 0 a 1. Classifica al comando Iesina e Foligno con 15, Cannara 14, Tolentino 13, San Marino 12, Recanatese 11, Porto-Santerpidio 10, San Giustese 9, Matelica 8, Montegiorgio 7, Bastia 4. Chiude il Trestina con un punto. Andiamo ai nostri regionali cominciando dal A1, ottava giornata. Angelana-Gualdo-Casa-Castalda 0 a 2, Baldaccio-Bruni-Petrignano 2 a 4, Castel del Piano-Ducato 2 a 4, Campitello-Fontanelle 1 a 0, Nestor-Casa del Diavolo 5 a 2, Orvietana-Olimpia-Tirus 1 a 1, Pontevecchio-Narnese 3 a 1, San Sisto-Sansepolcro 1 a 2. La classifica vede proprio il Sansepolcro al comando con 19 punti, poi Orvietana 16, Ducato 15, Fontanelle-Pontevecchio 14, Narnese 13, Campitello 12, Olimpia-Tirus, Nestor e Pedrignano 11, Castel del Piano 9, Baldaccio-Bruni, Angelana e Casa del Diavolo 7. Chiudono a quota 6, Gualdo-Casa-Castalda e San Sisto. Scendiamo nel Juniors a 2, dove sono 4 i gironi, cominciando appunto dal girone A. Sesta giornata, Tredico-Gubbio-Sulpizia 3 a 0, Branca-Umbertide-MA 5 a 1, Cervara-Ponte-Pattoli 3 a 1, Lama-Colombella-Pelugia-Norde 1 a 3, Tiferno-1919-Ponte-Felcino 6 a 1, Virtus-Sangiustino-FC-Castello 1 a 5, riposava il Montone. Andiamo a vedere la classifica, Tiferno-1919 al comando a punteggio pieno con 18, a seguire FC-Castello con 15 punti, anche esso a punteggio pieno visto che già ha riposato. Poi, Tredico-Gubbio 12, Branca-10, Colombella-Perugia-Norde 9, Montone 8, Cervara-Ponte-Felcino a 7, Virtus-Sangiustino-Ponte-Pattoli-Umbertide-MA 6, Lama 1, chiude la Sulpizia ancora a 0. Girone B, Ellera-Junior-Sansisto 3 a 5, Passignano-Madonna-Alta-Ferro di Cavallo 2 a 1, San Marco-Juventina-Dombosco 0 a 2, Santa Sabina-Mantignana 5 a 1, Tavernelle-Pievese 3 a 3, Tuoro-Trasimeno 0 a 1, Ventinella-Magione 10 a 0. La classifica, Ventinella al comando con 16 punti, Junior-Sansisto-Trasimeno 13, Tuoro-Pievese 12, Passignano 11, San Marco-Juventina-Dombosco 10, Santa Sabina 8, Tavernelle 7, Mantignana 3, chiudono a 1 punto, Madonna-Alta-Ferro di Cavallo, Ellera e Magione. Andiamo al girone C, anche qui ovviamente la sesta giornata, C4 Assisi-Subasio 1 a 7, Cridunno-Pontevaliceppi 3 a 1, Iulia Spello-Cascia 4 a 0, Nocera-Umbra 2017-Bevagna 1 a 3, Polizia Penitenziaria-Spoleto-Collepieve 3 a 1, Vigorno-Augaldo-Bastardo-Spoleto 5 a 2, Riposava il Deruta-San Nicolò. Al comando la Iulia Spello a punteggio pieno con 18 punti, Vigorno-Gualdo-Bastardo 15, Bevagna e Pontevaliceppi 12, Clidunno-Polizia Penitenziaria-Spoleto 11, Nocera-Umbra 2017-9, Assisi-Subasio-Cascia 6, Deruta-San Nicolò 5, Chiudono a 0 punti, Spoleto-C4 e Collepieve. Chiudiamo la lettura dei risultati di Oniores a 2 con il girone D. AMC 98 Olimpia-Pantalla 2 a 3, Accademia Calcio-Terni-Todi 0 a 6, Giove-Proficulle 0 a 4, Guardia-Amerina 3 a 3, Romeo-Menti-Sporti-Interni 3 a 0, San Gemini-Massa-Martana 1 a 4, Riposava il Terni-Est. Al comando il Letto-Odi con 16 punti, Terni-Est a seguire con 15, poi Romeo-Menti 11, Amerina 10, Massa-Martana, Olimpia-Pantalla, Proficulle e San Gemini 9, Guardia 5, AMC 98, Sporti-Interni e Giove 3, Chiude l'Accademia Calcio-Terni ancora ferma a 0 punti. Eccoci di nuovo qui, siamo sul Verde Prado del 16 giugno, andiamo dunque un attimo a parlare con i nostri due ospiti, ricordo, Emanuele Manni alla mia destra, Presidente di Iulia Spello, alla mia sinistra Mirko Falcinelli, Direttore Generale. Direi di cominciare con il numero 1. Ci mancherebbe altro. Allora Emanuele, giovanissimo Presidente, no? Giovanissimo. Beh, abbastanza giovane, dai via, insomma, questi primi mesi alla guida di questa società gloriosa, cosa ti hanno insegnato? Cosa mi insegneranno ancora? Perché quando ho deciso di assumere questo incarico l'ho fatto anche con una certa leggerezza, ma con una consapevolezza, cioè quella di prendere in mano una società storica, storica per Spello, storica per il territorio. Quindi un grande impegno e l'obiettivo è quello di proseguire su questa strada e la fortuna è stata che ho trovato un gruppo dirigenziale davvero all'altezza, preparato, che contribuisce al mio lavoro, diventa quasi un lavoro marginale con loro al mio fianco. Inoltre, devo anche dire che chi mi ha preceduto e che per cause di vario genere ha dovuto lasciare il proprio incarico, in realtà non se n'è mai andato ed è sempre disposto a darmi buoni ed ottimi consigli per proseguire su una strada. Prendiamolo è Giacomo Brunetti, ex presidente, ha fatto un lavoro di nove anni, ha costruito una società tirandola fuori da una situazione quasi in fallimento, se non ricordo male. Era una situazione particolarmente difficile. Particolarmente difficile, no, è vero, sì, quindi sono ripartiti proprio da zero, dalle fondamenta e in eredità io ho trovato invece una società florida, ricca, piena di giovani e quindi un impegno ancora maggiore da portare avanti con serietà. E quindi che cosa mi hanno insegnato questi primi mesi? Che non è ancora finita, sono ancora all'inizio, sono ancora in un apprendistato e la fortuna è di avere un gruppo valido sempre al mio fianco. E' assolutamente, insomma, gestire una società di calcio o di qualsiasi tipo, insomma, presuppone sempre dei validi collaboratori, altrimenti da soli diventa complicato. Assolutamente. Senti, ma tu sei entrato in questo mondo come genitore oppure come semplice appassionato di calcio? Devo dire che il calcio è stata sempre una passione, chi è che non ama questo sport è bellissimo. Gioco Forza l'ha fatto il mio figlio che gioca nei pulcini quest'anno e quindi ero già sempre presente a seguire lui e i suoi amichetti e questa presenza ha fatto sì che qualcuno mi ha notato. Qui abbiamo trovato un pollo, un giovane pollo da mettere alla guida di una società. Vabbè, penso che ti faccia anche piacere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè è un piacere stare a contatto con dei giovani che amano lo sport, che lavorano, che faticano duramente sul campo per ottenere anche dei risultati personali importanti. È un piacere. Andiamo a sentire adesso un attimo Mirko Falcinelli che della società, come dicevamo, è il direttore generale. Terzo anno se non sbaglio qui a Spello, dopo l'esperienza da presidente a Bevagna, cosa hai portato qui a Spello? Ma diciamo che il primo anno, ci tengo a dire che a Bevagna non c'erano più i presupposti per andare avanti, se non altro quello che gli obiettivi che ci eravamo prefissati non era possibile portare avanti. Il presidente, l'ex presidente Giacomo Brunetti, mi ha dato questa opportunità, ossia ci ha dato questa opportunità, perché qui da Bevagna... E c'è una vicinanza particolare con Brunetti. Sì, c'è una vicinanza particolare. Abitate nello stesso edificio, diciamo. Ci divide il muretto. Quindi, niente, si è spostato un intero staff in realtà da Bevagna, persone molto competenti, esperti che io, ripeto, ho avuto la fortuna di conoscere, di poter lavorare per tre anni nel triagno bevanate e sono approdati qui a Spello. E' chiaro, siamo arrivati in una realtà che già aveva messo le marce alte. Sì, abbiamo portato il nostro, quello che potevamo fare, abbiamo dato il massimo, continuiamo a dare il massimo. Ad oggi, diciamo, i risultati ci stanno dando ragione, insomma. Tu ti riferisci alla prima squadra o un po' a tutto prima squadra, settore giovanile? Mi riferisco un pochettino a tutto, perché è chiaro che la prima squadra è la punta dell'iceberg e quindi è un po' il riferimento di tutti. Perché io, come dico sempre, il bambino, l'allievo guarda quello della Juniores e quello della Juniores chiaramente guarda i giocatori della prima squadra. E la squadra è molto giovane, diciamo, la prima squadra è molto giovane, presenta 12-13 sotto quote e quest'anno parliamo di 2000-2001 e qualche 2002, quindi siamo molto soddisfatti. E questi sotto quote arrivano dal settore giovanile dello Spello? Per lo più sì, ci sono pochissimi prestiti, abbiamo puntato esclusivamente sui ragazzi del nostro settore giovanile, anche perché sennò non avrebbe senso investire e lavorare sui settori giovanili, insomma. Senti, parliamo un attimo della Juniores, che, insomma, la vostra Juniores sta andando veramente forte, 6 su 6 vittorie. La Juniores è partita molto bene, era un obiettivo 1, mi sembra, il minimo a questo punto. Ma è inutile nascondersi, la squadra era stata creata e strutturata per fare bene, poi, come tutte le cose, il pallone è rotondo, devono funzionare tante cose per poter vincere un campionato. Però i presupposti ci sono. Non è presente ancora per motivi lavorativi, ma è chiaro che, per quanto riguarda la formazione delle Rose, ha inciso e continua a incitere molto Ranucci Federico, che è una persona di grossa competenza, grossa esperienza e penso che, insieme a Germani e Fabrizio, che invece è responsabile della scuola calcio elite, siano un po' il valore aggiunto di questa società. E penso che lo Spello è fortunato ad avere due persone così, che con loro il futuro non può essere che rosso. Sono una ricchezza in assoluto. I juniors e prima squadra, cioè si parlano tra loro, si allenano insieme, oppure ognuno fa vita a sé? No, diciamo non fanno vita a sé, fanno un allenamento insieme, gli allenatori si parlano, c'è chiaramente uno staff che cura più la prima squadra, uno staff che cura più la juniors e tutto il settore giovanile, però c'è massima collaborazione, ma non potrebbe essere altrimenti. Benissimo. Presidente, in questo settore giovanile, che ha detto Mirko, insomma sta andando molto bene, progetti, diciamo, che tipo di crescita, progetti per il futuro? Per la Giulia Spello il settore giovanile è un tesoro, è un tesoro che è stato costruito nel tempo e va mantenuto. E quindi è il fiore all'occhiello di questa società, è veramente il fiore all'occhiello. Abbiamo una squadra per ogni categoria e ognuna di queste squadre quest'anno sta facendo veramente bene, semmai dovessero contare i risultati più delle prestazioni o dell'atteggiamento che i ragazzi mettono in campo. Però stanno facendo veramente bene. Abbiamo circa 250 tesserati, che non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, perché l'obiettivo è quello di migliorare, di crescere, di aumentare in numero, ma soprattutto di dare a questi ragazzi degli istruttori preparati. E quindi ci teniamo, ci tengo a sottolineare che qui gli istruttori hanno tutti un loro patentino, sono tutti pronti non solo ad allenare i ragazzi, ma ad insegnare un comportamento, un modo di fare qualcosa che diventa utile per questi bambini, per questi ragazzi, quelli più grandini, anche quando escono dal campo verde. Un'educazione in senso lato, non solo sul campo di gioco. Che fa parte, no? Quel rispetto che c'è tra compagni e allenatori, ma anche con gli avversari e con tutte le persone che frequentano questo circuito, perché oggi possiamo incontrare un anziano qui fuori e il saluto è doveroso da parte di tutti. Questa educazione, questo modo, non è più scontato. In realtà, nella nostra nuova società. Questa è quella educazione che la società vuole dare come imprinting ai ragazzi attraverso i suoi allenatori molto preparati. Senti, ma un ragazzo perché dovrebbe venire a giocare qui all'ospedale? Perché c'è un presidente giovane? Perché c'è un presidente giovane e non conta. Anche se ultimamente abbiamo inserito molte vuote rosa anche nel Consiglio, cosa che prima non c'era. Questa è un'altra cosa molto importante, perché poi le mamme sono le prime accompagnatrici dei ragazzi, quindi era giusto dare non solo lo spazio, ma raccogliere le loro opinioni che sono sempre diverse, soprattutto in un mondo molto maschile ancora come quello del calcio, le loro opinioni sono molto diverse e questo ci fa comodo ed è importante per crescere ancora. È un motivo di crescita. E perché venire a giocare a Spello? Beh, per tanti motivi. Sicuramente perché è divertente, perché il calcio e lo sport in generale fanno bene alla salute. Vedo oggi tanti bambini attaccati ai computer, ai tablet. Per troppo tempo invece l'attività fisica ci aiuta a superare quei piccoli problemi di obesità, cardiovascolari, crescere muscolarmente. Ma poi il calcio aiuta a fare tanti amici. La Giulia Spello è la società giusta per i ragazzi per crescere, per diventare dei piccoli campioni, per sviluppare e coltivare i sogni dei piccoli calciatori, in un ambiente sano e senza pretese per nessuno. Io aggiungo venire allo Spello perché comunque c'è un'impiantistica importante. Assolutamente. Un campo in erba che molti ci invidiano. Ci invidiano perché io sono di Spello con un po' di partigianeria. Quest'oggi penso che ce la consentirete. Devo dire che abbiamo una struttura qui all'Osteriaccia e grandi progetti futuri. Abbiamo già una struttura impiantistica di notevole pregio, come poche credo in Umbria. Quindi abbiamo un campo da calcio in erba, un campo in terra battuta. Abbiamo due piccoli campi ancora in erba che servono per allenare i portieri principalmente, ma ci sono anche altre piccole attività. Due campi da calcetto in sintetico, una vista di pattinaggio, perché fa parte sempre del complesso, come anche la piscina fa parte del complesso, anche se al momento è gestita da un'altra società. Oltre ai progetti futuri, di migliorie tecniche in generale, perché tra pochi mesi partiranno i lavori di smantellamento dei due campi da calcetto per dare spazio ad un nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione, omologato per giocare 8 contro 8, ma che all'occorrenza può essere suddiviso in due campi da calcetto per giocare in 5 contro 5, chiaramente. Questo nell'immediatezza, già un progetto approvato, si sta trovando solamente l'impresa per fare lavori. Siamo già molto avanti. Probabilmente a marzo sarà già ufficialmente inaugurato e attivo. Addirittura. Sì, ma oltre a questo ci sono tanti altri progetti che riguardano la sistemazione dell'area dietro alla tribuna principale, con la creazione di un parco, di un percorso per fare passeggiate in assoluta tranquillità. Percorso verde. Percorso verde, sì. Anche costellato in varie zone di tutte quelle attrezzature che oggi vanno molto di moda, che i ragazzi cercano per fare quell'attività fisica senza attrezzature, cioè fuori dalla palestra, ma che aiuta a fare tipo un parkour urbano, dovrebbe essere poi. E l'obiettivo è quello di ricreare una vera e propria polisportiva, come era qualche anno fa, e quindi inglobare, nella SD Iuliaspello, altri sport. Il primo tra tutti probabilmente sarà il pattinaggio. E anche altre società, perché noi sotto le tribune abbiamo anche una scuola di musica che conta 100 iscritti. Ah però, questa è... È un altro fiore all'occhiello, questa scuola di musica, perché sono veramente ad alto livello, lavorano. E quindi inglobare tutto per fare una polisportiva che racchiuda un palinzesto veramente ampio di attività. Assolutamente. Ottima programmazione. Direttore, tu sei più portato per guardare la prima squadra o il settore giovanile? O guardi un po' tutto, diciamo? Diciamo che la mia predisposizione è più per il settore giovanile. Poi è chiaro che nel tempo i ragazzi sono cresciuti e adesso fa piacere vederli giocare la domenica pomeriggio con la prima squadra. Insomma, ce ne stanno diversi dei ragazzi che ho visto crescere. Anche se non è da tantissimo che sono nel mondo del calcio. Senti, in generale gli obiettivi di questo settore giovanile, soprattutto riferendoci alle formazioni di A2, sono quelle di salire di categoria, diciamo. Ma il primo obiettivo è il mantenimento della categoria. Questo è il primo obiettivo. Ma sicuramente l'obiettivo principale è far maturare questi ragazzi, farli crescere con, come ha detto bene il Presidente, con allenatori competenti. Competenti che devono essere in grado di sfruttare le potenzialità di questi ragazzi. Ripeto, l'obiettivo è investire bene sotto per raccogliere sopra. Senti, nel corso della stagione sono organizzate tornei di vario tipo, magari Pasqua, Natale oppure in estate. Ma sotto questo punto di vista è molto attivo il nostro responsabile Germani Fabrizio perché i tornei riguardano per lo più le categorie della scuola calcio. Per tanti motivi, quelli piccoli. Poi partecipiamo a qualche torneo giovanile, con giovanissimi allievi. Perché no, magari in futuro riportare anche qualche bel torneo a Spello perché mi sembra c'era il Felicioni. C'era il Felicioni, era conosciuto in tutta l'Umbria insomma. Era un grandissimo torneo. Sarebbe bello ritornare insomma a quei tempi. Era un grande livello ma secondo me non so quanto sia possibile adesso. Ti spiego. Perché adesso le Juniors sono un po' impoverite dalle nuove norme che costringono, diciamo, tra virgolette, le prime squadre a far giocare quelli che sarebbero Juniors. Per cui le squadre secondo me un po' ne risentono. Mentre all'epoca erano veramente tipo delle squadre primavera. Parliamo di una ventina di anni fa, credo, se non sbaglio. Diciamo che i tempi sono un pochettino cambiati. Sì, ma il livello era veramente alto. Sì, sì, era molto alto. Diciamo che si potrebbe puntare sulle categorie giovanissime allievi che raccolgono un grosso interesse. Presidente, con le scuole del Comune come va? C'è sinergia? Sì. Vi parlate, diciamo. Molto, molto frequentemente. Abbiamo un ottimo rapporto con le scuole e quest'anno con la dirigente scolastica abbiamo intrapreso un percorso che ci vede proprio partecipi in prima persona nell'ambito scolastico, in orario scolastico e in particolare durante le ore di attività fisica. E' sempre il nostro Fabrizio Germani che si occupa di questa attività andando a scuola e facendo queste lezioni ai ragazzi parliamo chiaramente di scuole elementari per il momento facendo queste lezioni che sono sia teoriche e che riguardano anche la motoria e poi attività con e senza la valla perché è un pochettino più ampio del solo calcio però abbiamo questo rapporto e va molto bene non solo, poi è stessa la collaborazione con le scuole medie di secondo grado che invece sono loro che si spostano e vengono qui nei nostri impianti dove possono fare un'attività all'aria avverta sempre di mattina durante l'orario scolastico e quindi noi diamo a loro la possibilità e mettiamo a loro a disposizione i nostri impianti per fare allenamenti di ogni genere. Bene. Senti, ultima domanda, diciamo. Il tessuto economico come risponde? Diciamo, imprenditori, negozianti sono presenti oppure sono un po' latitanti come? No, no, devo dire che sono piacevolmente sorpreso dalla presenza dei commercianti spellani anche perché fuori porta non ci andiamo cioè se dobbiamo dare visibilità a qualcuno e cerchiamo di dare la visibilità a qualcuno lo facciamo nell'ambito del comune e quest'anno abbiamo avviato una campagna di ricerca pubblicitaria per avere qualche sponsorizzazione qualche contributo che poi serve per portare avanti un'attività ad alto livello come quella che ci siamo prefissi di fare e la comunità dei commercianti ha risposto bene quindi abbiamo piccoli contributi ma da tante figure e questo è importante per avvicinare anche un nuovo pubblico a venirci a vedere la domenica pomeriggio quando gioca la prima squadra e anche quando giocano i ragazzi del settore giovanile esattamente Benissimo, direttore se la memoria non mi inganna nel 69 lo spell venne fatto risorgere per cui quest'anno siamo nel cinquantesimo avete pensato a qualche festeggiamento particolare? ma questo io lascerei la parola al Presidente che è molto più organizzato su queste cose quasi come un trabocchetto su queste cose molto più preparato no, perché insomma 50 anni comunque se la memoria non mi inganna guarda, io sulla tua memoria ho molto fiducia è la mia che mi inganna e non sapevo sinceramente che ci fosse un cinquantenario da festeggiare ahimè e faccio subito un mea colpa adesso che ne sono informato vediamo se possiamo organizzare qualcosa che sia di aiuto a ricordare è stato un piccolo periodo in cui lo spell non c'era come prima squadra però la società comunque era presente perché c'era la S di spell che potrebbe essere considerata come un proseguimento naturale sì per cui potrebbe essere adesso mi vado ad informare vado a vedere gli albi storici cerco di costruire qualcosina a me ha colto in castagna però dai ci dobbiamo informare in fretta però perché 69 2019 mancano un paio di mesi mancano un paio di mesi ancora il tempo c'è già a Natale andrebbe benissimo per quando fate la festa bianco-rossa facciamo la festa bianco-rossa quest'anno la facciamo il 15 di dicembre abbiamo anticipato qualche giorno sarà una grande festa benissimo io ringrazio i nostri primi due ospiti per la chiacchierata ricordo alla mia destra c'era il presidente dell'Aioli Aspello Emanuele Manni grazie Emanuele grazie a voi alla mia sinistra il direttore generale Mirko Falcinelli grazie a voi grazie e adesso diamo un attimo in pausa ci rivediamo tra un po' Satiri Auto showroom dell'automobile dal 1966 concessionaria ufficiale per i marchi Fiat Fiat Professional Abarth Lancia e Ford assistenza e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote è tempo di cambiare con 7 calcio ora hai tutto il calcio Umbro in tempo reale scarica gratis l'app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione risultati in tempo reale classifiche marcatori calcio mercato highlights trasmissioni e tante tantissime news è davvero tempo di cambiare scarica la nostra app Italia Gol e poi seleziona 7 calcio è la nostra nuova applicazione non puoi sbagliare non puoi non averla eccoci di nuovo qui dopo la pausa abbiamo cambiato gli ospiti nel frattempo alla mia sinistra c'è Fabrizio Germani responsabile tecnico della scuola calcio buonasera Fabrizio alla mia destra invece Norberto Aristei che è della scuola calcio è un dirigente della società buonasera buonasera allora adesso andiamo a leggere i risultati degli allievi dei tre gironi allievi a 1 e a 2 poi parliamo un attimo con i nostri due ospiti allievi regionali a 1 girone unico sesta giornata Angelana Orvietana 2 a 0 Bastia Castellepiano 3 a 2 Cannara Atletico Gubbio 5 a 2 Narnese Sanzisto 1 a 3 Terniest Foligno 0 a 0 Sansepolcro Campitello 0 a 1 Valdichiana SF Castellepiano 2 a 3 la classifica al comando Cannara con 18 a seguire Campitello e Angelana a 16 insieme al Sanzisto a 13 invece Sansepolcro Bastia a 9 Foligno 8 Castellepiano Narnese SF Castellepiano 6 Terniest 5 Orvietana 3 Atletico Gubbio e Valdichiana chiudono a 0 punti andiamo rimaniamo negli allievi regionali ma scendiamo in a 2 e cominciamo con il girone A Colombella Perugia Norte Guardo Casacastalla 2 a 1 Fontanelle FC Castello 1 a 2 Ponte Valle Ceppi Trestina 3 a 4 Pievese Montemalbe 3 a 1 Ponte Vecchio Agape 6 a 0 Santa Sabina MDL Sansecondo 5 a 0 Virtus San Giustino Don Bosco 3 a 4 Classifica al comando Cella Ponte Vecchio con 16 punti in seguita dalla Pievese con 13 poi a 12 troviamo Ponte Valle Ceppi Fontanelle FC Castello e Don Bosco a 10 L'Agape a 9 Santa Sabina e Colombella Perugia Nord e poi Trestina 8 Gualdo Casagastal da 4 Virtus San Giustino 3 Montemalbe 1 MDL Sansecondo 0 punti Girone B degli allievi regionali a 2 Sesta giornata anche qui Accademia Calcio Terni Ducato 0 a 3 Fulginium Olimpia Tirus 5 a 5 Narnia 2014 Virtus Foligno 2 a 0 Nestor Olimpia con le pepe Pantalla 7 a 0 Petrignano Amerina 2 a 4 PGS Bosico GMT 2005 1 a 1 Vigorno Oguardo Bastardo Giulia Spello 2 a 1 La classifica al comando sono in due Nestor Educato con 16 punti Accademia Calcio Terni 15 Olimpia Tirus 13 Giulia Spello GMT 2005 10 punti PGS Bosico Amerina e Fulginium 8 Petrignano 4 Vigorno Aguardo Bastardo Narnia 2014 Virtus Foligno Olimpia con le pepe Pantalla chiudono a 3 punti Eccoci di nuovo qui Allora io direi di cominciare con Fabrizio Germani che è il responsabile del tecnico della scuola calcio Siete scuola calcio elite qui a Spello giusto? Sì siamo scuola calcio elite Sono Questo sarà il terzo anno Che ci possiamo Freggiare di questo titolo In quanto Stiamo seguendo una strada Che noi crediamo che sia quella giusta Che ci porta ad avere tutti i tecnici qualificati E un progetto di lavoro Secondo me Vincente In quanto aiuterà la crescita Dei ragazzi Fate parte del Perugia Academy Credo no? Insomma Per cui insomma Che esperienza È questa di far parte di una Con una società importante Sì noi siamo affiliati con Il Perugia Calcio Di cui Seguiamo Alcune linee guida E poi Sono diversi anni In cui Ospitiamo Qui a Spello La festa finale Del Perugia Academy Da dove arrivano Numerose società Da tutta Italia Bene Per cui sarà Immagino Una grande festa Insomma Tanti colori Tanti ragazzini Insomma Sì è una bella festa Soprattutto per questi bambini Che venendo da Da tutta Italia Si possono incontrare Prima qui a Spello E poi nella giornata finale Al Renato Curi Ah ecco Ma una sinergia del genere Cosa porta Per una società Come lo Spello Beh come dicevo prima Cosa vuol dire Legarsi al Perugia Diciamo Beh Innanzitutto Cerchiamo Una metodologia Di lavoro comune Quindi Seguiamo Le linee guida Del Settore tecnico Del Perugia Calcio E secondo noi Sono giuste Cerchiamo di farle Rispettare Ai nostri tecnici Così che Anche i ragazzi Hanno un'impronta Importante E anche per il futuro Che non si sa mai No? Ah certo Assolutamente Norberto Io mi ricordo di te Come Di campo Adesso sei diventato Comodo in scrivania Come Sì Dopo Molti anni Molti anni Che ho fatto Allenatore Sia prime squadre Che settore giovanile Dal 2013 Sono passato Come dire Dirigente responsabile E' un ruolo Che ti piace Questo oppure No è un ruolo Che volentieri Lo faccio Anche perché Ho incontrato Una persona Come Fabrizio Che era Qui Nel Fulegnate E' molto E' molto apprezzato Bene Senti ma Tu facendo parte Un po' Della Giulia Spello Come dirigenza Storica Sei un po' Una memoria storica E in questo caso Adesso per la crescita Di questo settore giovanile Voi puntate più Sul convincimento Sulla programmazione Per i ragazzi Oppure magari Vi rivolgete Anche ai genitori Spozorizzando Diciamo Qui si sta bene Un bel ambiente Più che altro Con la scelta De Germani Abbiamo fatto Questo progetto Che andrà avanti Per cercare Di far giocare In prima squadra Giocatori Del posto Se ben ti ricordi Quando facevamo L'eccellenza Era 9 undicesimi Giocatori Di Spello Quindi noi L'obiettivo nostro È di fare Gli anni in cui Stavamo in Zeredi Stavamo in Zeredi E quindi La scelta di Germani È stata proprio Su questo Su questo In modo da far Per crescere i giocatori Per la prima squadra Bene Senti ma Per entrare qui Alla Iulia Spello Immagino che Perlomeno i più piccoli Pagheranno una retta Qualcosa Sì hanno una retta Da pagare Ma permettete anche Dei periodi di prova Gratuiti Una settimana Una settimana 15 giorni Sono di prova gratuita E quindi poi dopo Se il ragazzo È contento Se si trova bene Se si trova bene Sì Ok Senti Scuola Elite Essere scuola Vuol dire Tra le altre cose Anche uno psicologo Sia per i ragazzi Che per In alcuni casi Anche per i genitori Anche per Per noi più che altro Per i genitori Ci vorrebbe Abbiamo la collaborazione In qualche società Lo usano anche per i genitori Sì anche noi Abbiamo la collaborazione De Falcinelli Che è la sorella Del direttore De Mirko Falcinelli E quindi ci dà una mano Su questo Bene Senti ma Nella scuola calcio Della Iulia Spello Si gioca soltanto a calcio Visto che parliamo di età Molto piccole Oppure Che ne so Fate divertire i ragazzi Anche con altri giochi Primo è un gioco E poi dopo Sulla programmazione A seconda della fascia d'età Vanno a lavorare I tecnici Però sempre col calcio Si gioca Sempre col pallone Si gioca Come dice Fabrizio Come dice Fabrizio Il calcio è un gioco No Io dico sempre che Il lavoro È bello È un gioco Ma deve essere organizzato Quindi Per noi L'importante È il lavoro sul campo Noi ci crediamo tanto Poi le chiacchiere Stanno a zero Noi lavoriamo sul campo Cerchiamo Ci siamo dati Un periodo Di Uno step Dove noi cercheremo Come dice Norberto Di portare Più ragazzi possibili In cima alla piramide Che è la prima squadra Che sta facendo bene Siamo arrivati Per ora In promozione Sempre con le nostre forze Io volevo aggiungere Io dico sempre È la nostra serie A Poi vediamo Se riusciamo a andare In Champions League No Una cosa importante Come diceva Norberto Come diceva Norberto Dobbiamo lavorare Sui giovani Il calcio Lo dice La federazione stessa Federazione italiana Gioco calcio E in quanto Lavoriamo con i bambini E soprattutto Loro hanno Poca attività Fuori Dal campo L'attività Deve essere Più multilaterale Possibile Sì Giocare a calcio Ma cercare Di Toccare Quegli aspetti Anche coordinativi Tecnico coordinativi Che sono fondamentali Per la crescita Di tutti I nostri Tesserati Non a caso Stiamo Portando avanti Anche Un progetto Con la scuola Primaria Di Spello Con La prof Lorentini Speriamo che Porti buoni frutti Sono arrivate anche due bambine Sono arrivate anche due bambine Se il calcio femminile Sicuramente il calcio Quest'estate Insomma i mondiali Femminili Hanno portato Un entusiasmo diverso Intorno al calcio rosa Senti Ma la società Visto che tu ti occupi Proprio della scuola calcio Che input Dà Per quanto riguarda Vittoria Sconfitta Cioè è un argomento Importante Oppure secondario Diciamo Viene prima Allora Noi abbiamo Circa 130 ragazzi Divisi in tutte Le fasce Di età Previste Dalla federazione Noi chiediamo La crescita Di ogni singolo ragazzo Noi non cerchiamo La vittoria Cerchiamo la crescita Di ogni singolo Atleta Chiediamo agli allenatori Di portarli Più in alto possibile Più in alto Più possibile Significa Non che dovranno Giocare in Serie A Però Sviluppare Le loro massime capacità Poi Se si vince O si perde È sempre un gioco Quindi Assolutamente Questa è la prima È la basilare La situazione basilare Senti Norberto Chiudo con te Qui i ragazzi Vengono fatti Cioè Gli viene insegnato A giocare in più ruoli Oppure già Dai piccoli amici Pulcini Insomma No Fino all'esordiente Li fanno girare Di solito Si gira Si gira In più ruoli Anche il portiere Ma il portiere Un po' di meno Il portiere Non gira Non gira Specialmente Se non gli piace Corre Per cui La scelta del portiere La prima è questa Corro meno degli altri Per cui sto fermo Tra i pali Benissimo Io direi che Abbiamo concluso Con i nostri nuovi due ospiti Andiamo un attimo in pausa Anzi Prima li saluto Alla mia sinistra Fabrizio Germani Responsabile tecnica Scuola Calcio Arrivederci Grazie Fabrizio E alla mia destra Norberto Aristei Dirigente della Scuola Calcio Grazie Grazie E con voi Ci vediamo tra poco Satiri Auto Showroom dell'automobile Dal 1966 Concessionaria ufficiale Per i marchi Fiat Fiat Professional Abarth Lancia E Ford Assistenza ai ricambi Anche per i marchi Alfa Romeo E Jeep Satiri Auto Cresce la passione Per le quattro ruote E' tempo di cambiare Con 7 calcio ora Hai tutto il calcio Umbro In tempo reale Scarica gratis L'app Italia Gol E poi seleziona 7 calcio E' la nostra nuova applicazione Risultati in tempo reale Classifiche Marcatori Calcio mercato Highlights Trasmissioni E tante Tantissime news E' davvero tempo di cambiare Scarica la nostra app Italia Gol E poi seleziona 7 calcio E' la nostra nuova applicazione Non puoi sbagliare Non puoi non averla Eccoci di nuovo qui Adesso abbiamo due nuovi ospiti Anzi un ospite nuovo E uno no Nel senso Alla mia sinistra C'è nuovamente Mirko Falcinelli Direttore generale Buonasera Buonasera Mirko Alla mia destra Pari dei Tomassini Vicepresidente Del Iulia Spello Buonasera Benissimo Allora adesso andiamo A vedere tutti i risultati Dei tre gironi Dei tre gironi Giovanissimi Nonché a vedere anche Il servizio Sulla partita Dei giovanissimi Iulia Spello Fulginium E poi torniamo in studio Tra virgolette E ne parliamo con i nostri ospiti Eccoci dunque con i giovanissimi E regionali Cominciamo dalla 1 Ovviamente Girone unico Sesta giornata Castel del Piano Angelana 0 a 2 Campitello Cannara 1 a 2 Don Bosco Narnia 2014 6 a 2 Ducato Santa Sabina 1 a 1 FC Castello San Sepolcro 2 a 4 Foligno Ponte Valleceppi 4 a 1 SF Castion del Lago Ponte Vecchio 0 a 2 Andiamo a vedere la classifica Santa Sabina Al comando Con 14 punti Poi Ducato E Angelana 13 Foligno E Campitello 11 Cannara San Sepolcro 10 Castel del Piano FC Castello 7 SF Castion del Lago Don Bosco E Ponte Vecchio 6 Narnia 2014 3 punti Chiude il Ponte Valleceppi Con 2 punti Scendiamo negli a 2 Dei giovanissimi Cominciando dal girone A Atletico Cubio Nocera Umbra 9 a 2 Barberini Flaminia Perugia 2 a 2 Giovanile Arna Pievese 1 a 1 Ubaldo Casacastalda Trestina 4 a 0 MDL San Secondo Carpine Magione 2 a 7 San Marco Juventini A 7 Valli Pila 5 a 1 San Sisto Virtus San Giustino 6 a 0 Riposava Il Fontanelle Qui due le classifiche Visto che il Perugia Essendo società professionistica E fuori classifica Quella ufficiale E quella di destra Noi leggiamo Quella di sinistra Dove c'è anche il Perugia Qualdo Casacastalda 18 Atletico Cubio Fontanelle San Sisto 12 Virtus San Giustino Perugia 10 Carpine Magione Trestina San Marco Juventina 9 7 7 Sette Valli Pila 6 Giovanile Arna 5 Pieve 4 Insieme a Barberini Flaminia Chiudono A 0 Invece Nocera Umbra E MDL San Secondo Andiamo al girone B Vigono E qui Oltre che alle società Ci rivolgiamo anche ai gruppi Di genitori Che magari vogliono dare Una visibilità televisiva Ai loro ragazzi Contattateci Al 3 Giulia Spello Si rende subito pericolosa Con Doraco Servire in aria Da Alicaga Con Carnevali Che respinge La Giulia Spello Continua ad attaccare Provandoci da fuori aria Ma Carnevali Para Senza problemi Belloni La mette in aria Dove Dopo un batti e ribatti Aereo La palla arriva a Caciola Che ci prova al volo Proia Si invola sulla fascia Per metterla in mezzo Dall'altezza E la bandierena Non trovando nessuno Nei suoi La Fulginium Prova a portarsi in attacco Ma lo Giulia Spello Riesce a chiudere Tutti gli spazi Doraco Mette la palla in mezzo Ma la Fulginium Riesce a buttarla fuori Dall'aria Con Filippucci Che arriva per il primo Mandandola sul fondo La Fulginium Riesce a contenere Gli attacchi Dello Giulia Spello Chiudendo bene Gli spazi sotto porta E applicando bene Gli schemi sugli altri Durante la settimana Filippucci Ci prova da fuori aria Con Carnevali Che ci arriva Con la palla Che colpisce il palo La Fulginium Prova a riportarsi in attacco Ma lo Giulia Spello Continua a chiudere Tutti gli spazi Sul finire Della prima frazione Di gioco La Fulginium Ci prova con Panaro Mandandola sul fondo La ripresa Si apre Con la Giulia Spello Che si porta subito In vantaggio Caciola Si invuola in aria Mettendola in mezzo Dove Licitra Nel tentativo Di buttarla via La tocca male Con Proia Che la devia in rete Per il vantaggio Di padrone di casa Lo Giulia Spello Continua ad attaccare Cercando di chiudere Subito la partita Ma Proia Non ci arriva Lo Giulia Spello Non ne vuole sapere Di diminuire il ritmo Ma la Fulginium Riesce in un modo O nell'altro A difendersi Carnevale Non si fa trovare Impreparato Sul colpo di testa Di Carbonari Prima E poi riesce A chiudere Lo specchio Della porta Ad Aligaga Carnevale Brava a distendersi Deviando in angolo La punizione Di Caciola Ma sulla Insecuzione Di questo Non può fare niente Sul colpo di testa Di Bucciarelli Che la infila In rete Per il raddoppio Dei padrone di casa Lo Giulia Spello Continua ad attaccare Con Caciola Che mette Alla prova Nel campo E in futuro Ancora non si sa Perché abbiamo Parecchie squadre Forti Con tutti 2005 E qualche 2006 E potremmo fare bene Come potremmo fare male Ancora non si sa Siamo partiti bene Inizio campionato Abbiamo vinte Tutta a parte una Bisogna continuare così Senza Accetando la capoccia Continua a fare bene E me ne ha in campo Perché Secondo me Possiamo arrivare Tranquillamente Prima in classifica Perché La squadra ci sta Il morale è alto E niente Puntiamo solo al fare al meglio Ecco Come diceva Filippo Potremmo sicuramente Arrivare A fare un buon risultato In questo campionato Anche Dopo vari sessioni Allenamento Seguite bene E niente Ce la metteremo tutta Sull'andamento del campionato Fino adesso Non è andato molto bene Infatti Ne abbiamo vinta solo una Però Nel futuro Proveremo A riscattarci Perché noi siamo Una squadra Fatta solo da 2006 Incontriamo altre squadre Composte da solo 2005 E questo fatto Un po' fisicamente Sul piano di gioco È inferiore al nostro Però noi proviamo Proveremo sempre a vincere In futuro Proveremo A riscattarci E proveremo A guadagnare Almeno a salvarci È stata Diciamo Incontravamo Una squadra Che schiera Tutti 2006 È l'unica È la prima squadra In precedenti Cinque giornate Avevamo trovato Tutte squadre Che avevano 2005 Anche in panchina Avevano tutti 2005 Logicamente Loro hanno fatto Un progetto diverso Vanno in campo Con tutti 2006 Quindi qualche difficoltà In più Sicuramente la troveranno Noi anche comunque 4-5-2006 Abbiamo titolati Praticamente tutte le partite Però abbiamo Qualcuno Che ha già fatto Il regionale Giovanissimi regionali L'anno scorso Che dà Quel pizzico di esperienza In più Che comunque In queste partite È utile È stato difficile Sbloccare il risultato Perché al primo tempo Loro si sono difesi Molto bene Poi una volta Andati in vantaggio Abbiamo raddoppiato subito E poi comunque Abbiamo penso Lasciato a loro Un'occasione Nel finale E basta Quindi penso La vittoria Sia meritata Comunque Loro sicuramente Hanno un progetto diverso Sono felice Fino a adesso Contento Fino a adesso Dei ragazzi Che comunque Non sapevamo bene A cosa andavamo incontro Ci ritroviamo praticamente Primi in classifica Dopo sei giornate Nonostante due assenze Molto importanti Perché abbiamo Angeletti e Bastianini Che hanno avuto Due infortuni pesanti E prima di gennaio Probabilmente Non li avrò a disposizione Quindi Sono due pededine Su cui Puntavamo molto Diciamo Sì allora Sicuramente La partita di oggi È stata una partita Complicata Dal punto di vista Fisico Di velocità Della partita Chiaramente Noi essendo Un gruppo Tutti 2006 Con qualche innesto Anche di 2007 Facciamo fatica Fino ad ora Abbiamo fatto fatica Dal punto di vista Fisico Poi proviamo sempre A giocare alla valla Proviamo sempre A costruire Comunque dal basso Però è chiaro Che Ad un certo punto Della partita La Fisicità Si fa sentire Tant'è che Il primo tempo Abbiamo comunque Tenuto botta Il secondo tempo Abbiamo commesso Due errori Che ci stanno Ma Hanno compromesso Diciamo La gara Per il resto Nel senso Speriamo che nel futuro Ma questo non deve essere Un alibi Nel senso Non deve essere Un alibi L'età Perché Lo sapevamo dall'inizio Che Avevamo una squadra Composta da 2006 e 2007 Per cui Cercheremo Di lavorare Durante la settimana Piano piano Per il futuro Cercando sempre Di fare del meglio Eccoci di nuovo qui Abbiamo visto Sia i risultati Che la partita Dei giovanissimi Direttore I giovanissimi Stanno andando Direi abbastanza bene Soddisfatti anche di loro I giovanissimi Stanno andando Molto bene Chiaramente Non ci aspettavamo Questa posizione Di classifica A questo punto Della stagione Però la squadra È stata preparata bene È stata strutturata bene L'allenatore È un allenatore Che è allenato A Bevagna Allenato A Nuova Guadu Quindi ha esperienze A Tazio Buccioli A Tazio Buccioli Ha esperienze Di prime squadre Si è ributtato Nei giovani Si diciamo Che si è ributtato Nei giovani E penso che Sia uno degli allenatori Sia un allenatore All'altezza della situazione E lo sta dimostrando Questa è una squadra Che è il giusto mix Fra 2005 Che quindi già Hanno avuto Una esperienza Un anno di esperienza Con questo Campionato regionale A2 E con Diciamo La giunta Dei 2006 Che l'anno scorso Hanno fatto parecchi Di loro sperimentali Quindi già Allenati E preparati Al calcio a 11 E hanno integrato Questo gruppo Che sta dando Ottimi risultati Poi si sono aggiunti Anche dei ragazzi Delle Folignate C4 E Fulginium E soprattutto E mi sembra Che qualche ragazzo Di Gannara A proposito Di Gannara Lanci proprio L'assist Perfetto Perché insomma Da qualche tempo C'è questa sinergia Tra i settori giovanili Della Iulia Spello E del Gannara Come l'avete studiata Questa formula Ma Diciamo che Questa collaborazione È nata da un'idea Del padrone Antonio Baldacini Ecco È nata È nata tre anni fa Lui ha lanciato Questa proposta E È stato il primo A crederci Perché sappiamo benissimo Che Il campanilismo È forte Non solo fra Spello E Gannara Ma fra tutte le piccole Realtà Limitrofe E diciamo che Non è stata un'operazione Semplice Però io dico sempre Che fra persone Intelligenti E soprattutto Fra persone che Si prefiggono Un obiettivo Penso che alla fine Qualcosa Può venire fuori E penso che Questa collaborazione Ha dato Ottimi risultati Sta dando ottimi risultati Ad oggi siamo Molto soddisfatti Questa collaborazione È partita con Le categorie Allievi e giovanissimi Nel tempo si è allargata Le categorie Esordienti 2007-2008 E da quest'anno La collaborazione Riguarda anche La scuola calcio Infatti Fabrizio Germani È responsabile Della scuola calcio elite Di Cannara Borghi Marco Collaborano E quindi C'è confronto C'è C'è un ottimo C'è un ottimo Rapporto Quindi ripeto Stiamo andando bene Anche perché Io sono convinto Di una cosa E penso che Più di uno È d'accordo Su questo Spello O Cannara È difficile Controbattere Le realtà calcistiche Che stanno vicino E mi riferisco A realtà Molto Molto grandi Tradizionalmente Forti Quindi Spello O Cannara È dura Spello e Cannara Ce la possono fare Insieme Ce la possono fare E quindi Penso che Ripeto Bisogna abbattere Queste barriere Di campanilismo Ma piano piano Ce la faremo Bocca al lupo Crepi Paride Tomassini Vicepresidente Prima ho chiesto Al presidente Come mai Si era avvicinato Alla Iulia Spello E mi ha detto Perché comunque C'aveva il figlio Che giocava Tu invece Hai scavalcato Tu sei Si sei avvicinato Perché sei Il nonno No In realtà Io sono uno Dei primi fondatori Della SD Iulia Spello Della nuova Diciamo così Generazione Dello Spello In quanto Sempre appassionato Di sport Avendo mio figlio Che è andato A giocare fuori Qualcosa dovevo fare Qui a Spello Per cui Ricordiamo che Paride Tomassini E il papà Di Simone Di Simone Quest'anno Gioca al Matelica Al Matelica E quindi Insieme ad altri Papà In questo caso Di bambini giovani Abbiamo ridato Un pochino di lustro Abbiamo voluto Ridare lustro Alla polisportiva Iulia Spello Con la caratteristica In particolare Di voler creare Una struttura Che fosse Un ritrovo Per i ragazzi Sportivo Ma anche educativo E quello è stato L'aspetto che abbiamo Cercato dal primo giorno Di dare Fortunatamente Nella nuova Riorganizzazione Abbiamo trovato Persone e soggetti Che l'hanno pensata Come la prima Per cui Diciamo Io sono stato Sostanzialmente Affortunato Alla prima parte E in questa seconda E quindi Con soddisfazione Continuo a portare avanti Diciamo così La mia La mia spinta Diciamo così Più teorica Che pratica E in particolare Perché è venuto Mio nipote Quindi sono un nonno Che con soddisfazione Partecipa Alle manifestazioni Dei bambini Quelli piccolini Perfetto Per cui diciamo Qui a Spello I genitori In tante situazioni Molto criticati Per alcuni comportamenti Sono più che altro Una risorsa In questo I genitori Sono una risorsa Ma molto spesso Sono una nota dolente Perché sono I primi tifosi E troppo spesso Non sono tifosi sportivi Esatto E quindi Abbiamo fatto Con lettere Con Diciamo così Decaloghi E quant'altro L'informativa Di educare Un po' più I genitori Che i figli Però stiamo vedendo Che ultimamente Anche questo Sta dando dei risultati Un po' come L'abbinamento Con il Cannara Anche con i genitori Piano piano Mano che la struttura Viene riorganizzata Stiamo vedendo Che si sta migliorando Un pochino I servizi che diamo Un po' Il contatto continuo Perché l'organizzazione Delle persone Che partecipano Alla squadra Permette anche Di comunicare di più Con questi genitori E si riesce A dare Un'impronta Un pochino Diversa Non troppo Quella efferata Calcisticamente Ma anche educativa Ok Senti ma qui a Spello I genitori si fermano Agli allenamenti Oppure Lasciano il ragazzino Il bambino E partono Per quelle due ore Diciamo che Questo è un pochino Un problema Quello stagionale L'inverno È molto facile Che i genitori Lasciano i bambini E poi non avendo Spazi chiusi Per poter Attendere Gli allenamenti Vanno via L'estate invece Sono molto più presenti Dalla primavera Fino all'autunno Inoltrato Come adesso Mi troviamo Diciamo Con più soddisfazione Per gli allenamenti Sì E poi Anche lì Ci sarebbe Da rivedere Tante cose Allora Piano piano Stiamo cercando Di avvicinare Diciamo che Molti genitori Lavorano Portano i figli Diciamo È quell'oretta Che hanno Disponibile Magari Si orizzontano Verso altre attività Noi preferiremmo Che stessero qui Potrebbero dare una mano qui Esatto In questo Stiamo richiodendolo Continuamente Però ogni tanto Qualcuno si avvicina Poi il gruppo Fa la forza Speriamo di poter Raggiungere Quanto prima Gli obiettivi Anche perché Io è ora Che da vicepresidente Torno Passi a presidente Passi a solo nonno A solo nonno Senti L'ultima domanda Prima hai parlato Della sinergia Importante Con il Cannara Poi hai Diciamo Appena toccato Gli altri settori Giovanini Della zona C'è collaborazione Oppure È un po' Una guerra Tu li prendi In giovanissimo Quelli ti prendono In allievo Come funziona Quando è calcio Mercato Anche sui giovani Diciamo che ancora Spesso e volentieri Funziona come Robin Hood Ruba i ricchi Per dare ai poveri E poi però Quello povero Diventa ricco E viene derubato dal povero Per cui diciamo No a parte gli scherzi Con qualche società C'è rapporto di collaborazione Chiaramente nei limiti Del possibile Perché poi Quando c'è Classifica Competizione Creare sempre Squadre competitive All'altezza Diventa anche difficile C'è un po' Buon rapporto E questo è anche Importante Perché comunque Insomma Parliamo di giovani Per cui Insomma Far vedere Che ci sono delle guerre Intestine Soprattutto parliamo Di gioco calcio Di gioco E quindi bisogna Ricordarselo Ecco questo Benissimo Abbiamo concluso Anche per questa puntata Che abbiamo registrato Qui al comunale 16 giugno Di Spello Parlando appunto Della Iulia Spello Dei colori bianco-rossi Che si occupano Di un settore Giovanile importante Saluto i due ospiti Che ci hanno Accompagnato In questi ultimi minuti Alla mia sinistra Mirko Falcinelli Direttore generale Buonasera Grazie Buonasera Alla mia destra Paride Tomassini Vicepresidente Buonasera Paride Buonasera a tutti E grazie Benissimo Grazie a tutti Ci vediamo La prossima settimana Satiri Auto Showroom Dell'automobile Dal 1966 Concessionaria ufficiale Per i marchi Fiat Fiat Professional Abarth Lancia E Ford Assistenza e ricambi Anche per i marchi Alfa Romeo E Jeep Satiri Auto Cresce la passione Per le quattro ruote Oh yes It's just my type Boli Ciao a tutti A presto Ciao a tutti E便利 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 Per le quattro ruote A presto E便利 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 E便利